ben tornato a salvo famiani ciao e come parla famiani con questo microfono va bene oggi con i microfoni non ci intendiamo proprio eh no va bene adesso ne arriva un altro nel frattempo puoi avvicinarti do il permesso puoi avvicinare un pochino qui allora l'enigma dixieland band come ho detto in apertura spieghiamo questo enigma è questo enigma praticamente siamo sei appassionati di musica jazz del periodo degli anni venti anni trenta io ho costruito questo gruppo con strumenti particolari perché che strumenti ci vogliono ci sono già ci sono il basso tuba al posto del basso elettrico ora eccolo qui questo cos'è il basso tuba il basso tuba quindi arriva eccolo qui adesso siamo mi devo allontanare salvo quindi abbiamo la chitarra benjo benjo si chiama chitarra benjo chitarra benjo sì il benjo è con quattro corde questo è con sei corde quindi la chitarra benjo quindi poi gli altri strumenti già sono conosciuti tipo la tromba il trombone la batteria va bene e quindi poi il clarnetto che non può mancare non può mancare per questo genere per questo genere quindi siete tanti amici uniti da questa passione per un genere che è sempre gradevole all'ascolto però forse è poco praticato diciamo che in sicilia ci siamo solamente due gruppi noi qui a catania è un gruppo molto più bravo di noi ma come sei modesto a palermo so che anche voi girate moltissimo siete molto richiesti proprio per questi spettacoli questi concerti che appunto sono unici diciamo che ci siamo qui in sicilia qui a catania una palermo eseguite naturalmente tutto rigorosamente dal vivo qui in trasmissione avete provato e qual è il primo brano brano è sentito la night in dixland la notte in dixland questo me lo riprendo io e allora salvo famiani insieme con l'enigma dixieland band e allora salvo famiani insieme con l'enigma dixieland e allora salvo famiani insieme con l'enigma dixie e allora salvo famiani insieme con l'enigma dixieland e allora salvo famiani insieme con l'enigma dixie a 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